Le nuove generazioni in Italia sono una realtà da primato nell'inventarsi il lavoro con 560.000 imprese condotte da Under 35 che collocano il bel paese ai vertici dell'Unione Europea in termini di numero di giovani imprenditori. Sono altri i veri ostacoli alla realizzazione delle nuove generazioni che sono costrette a confrontarsi con sistemi formativi spesso insufficienti, una burocrazia impenetrabile e una diffusa diffidenza nei confronti della giovane età che si ripercuote sui percorsi di carriera all'accesso al credito. Sappiamo tutti quanto sia importante avere a disposizione della liquidità per mettere in piedi un'azienda, per iniziare a coltivare, per anche coltivare le proprie ambizioni, i propri sogni, per cui oggi siamo qui a presentare un nuovo servizio che riteniamo molto importante, che è un accordo, un finanziamento per le giovani imprese che intendono insediarsi e che si sono incendiati in agricoltura. Il Consorzio Agrario mette a disposizione e si fa garante di fronte alle banche per alcune iniziative e questo riteniamo sia molto importante. Sappiamo tutti quanto ad oggi i giovani che sono entrati in agricoltura hanno difficoltà a avere dei finanziamenti e per questo riteniamo che questo sia un servizio fondamentale, anche perché gli investimenti che si stanno facendo sono notevoli e riteniamo che questo passaggio possa aiutare a sviluppare l'agricoltura. Pertanto con questo progetto ci sentiamo molto più vicini al nostro associato. D'altro canto diciamo sempre che il Consorzio Agrario è la casa degli agricoltori e questo è un momento decisivo per essere vicini ai soci. Ovviamente le aziende che aderiranno a questo progetto potranno spendere la liquidità in investimenti per l'agricoltura e soprattutto l'agricoltura in innovazione. Pensiamo ai sistemi irrigui che ad oggi sono veramente innovativi e quindi danno la possibilità di un risparmio idrico e di un risparmio di energia anche umana. Noi siamo pronti per partire con questi progetti e questo è fondamentale. Un aiuto concreto per le nuove imprese anche per le sfide del mercato globalizzato. Mai così tanto cibo e vino italiano sono stati consumati sulle tavole mondiali con il record storico per le esportazioni agroalimentari made in Italy che nel 2018 hanno raggiunto per la prima volta il valore di 41,8 miliardi di euro grazie all'aumento dell'1,8%. Un'opportunità questa per le nuove imprese agricole da non perdere ma per farciò occorrono investimenti importanti. L'obiettivo del consorzio delle province del nord-ovest con questo accesso al credito agevolato è quello di favorire la realizzazione di progetti di sviluppo o consolidamento nei settori della produzione agricola, della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e della diversificazione del reddito agricolo dei propri soci. Il consiglio di amministrazione nella scorsa seduta ha approvato questa convenzione che è destinata a tutte quelle aziende agricole che hanno aperto la partita IVA negli ultimi 12 mesi oppure per il futuro anche a tutte le imprese agricole che apriranno una nuova partita IVA e avranno tempo 12 mesi per entrare dentro questa convenzione. Per entrare in questa convenzione è necessario iscriversi al libro soci del consorzio agrario. Una volta iscritti al libro soci del consorzio agrario questi nuovi clienti potranno acquistare presso il consorzio agrario tutti i mezzi tecnici di cui hanno bisogno e avranno tempo per saldare queste fatture per 12 mesi dalla data dell'acquisto. Potranno acquistare tutti i prodotti in vendita presso il consorzio agrario ad esclusione dei trattori per i quali riconosciamo delle forme di finanziamento più lunghe ad eccezione del materiale obbistico e invece ricompreso tutte le altre tipologie di prodotti quindi trattori di concimi, di sementi, di mangimi, di fitofarmaci, di carburante e di quant'altro. Questa convenzione è stata voluta per andare incontro alle esigenze di quelle imprese agricole che necessitano proprio per le esigenze di campagna dal momento della semina al momento del raccolto, al momento dell'incasso del loro raccolto necessitano di un sostegno finanziario. Il consorzio agrario è un'impresa che svolge molteplici funzioni ma è indispensabile per il consorzio, quando si parla di finanza, di appoggiarsi agli istituti finanziari che fanno quello esclusivamente di mestiere. Quindi con questo sistema avranno delle valute assolutamente privilegiate su tutto il mercato interregionale del consorzio agrario che copre il Piemonte e la Liguria ed eviteranno quindi quella stretta finanziaria che si genera tra il momento dell'acquisto dei mezzi tecnici rispetto al momento, come vi dicevo prima, dell'incasso del raccolto. Per tutti coloro che vedono in questa opportunità la realizzazione del loro obiettivo professionale, cosa devono fare e a chi devono rivolgersi? Beh, aderire è molto semplice. Ogni cliente può rivolgersi nell'agenzia più vicina del consorzio agrario e l'elenco delle agenzie lo trovate sul nostro sito web o sulla nostra app. Rivolgetevi al rappresentante del punto vendita che vi metterà in contatto con le banche e le banche in tempi brevi, le banche che hanno aderito a questa convenzione, altre stanno pensando di aderire, vi verranno presentate le proposte nel momento in cui vi presenterete presso il punto vendita, vi riconosceranno appunto questo anno di valuta, quindi 12 mesi di tempo per pagare le fatture al consorzio agrario. In questa convenzione il Consiglio di amministrazione nello svolgimento della sua attività mutualistica ha deliberato che gli interessi che sarebbero a carico dell'azienda agricola invece saranno a carico del consorzio agrario, quindi l'agricoltore beneficerà di 12 mesi a tasso zero, sempre, come si suol dire, salvo approvazione della finanziaria. Per le aziende che sono operative già da tempo esistono formule di finanziamento agevolato anche per loro? Questa, come vi ho detto, è una proposta che è dedicata alle nuove imprese agricole che hanno aperto la partita IVA da meno di 12 mesi o la apriranno da ora in poi. Per tutti gli altri clienti del consorzio agrario esistono comunque altre tipologie di convenzione con i principali istituti bancari italiani che prevedono la possibilità di acquistare anche per loro i mezzi tecnici e rivolgendosi a questi istituti finanziari la possibilità è sempre di pagarli fino a 12 mesi dal momento dell'acquisto del prodotto presso il consorzio agrario. Anche in questo caso il consorzio agrario si fa carico, questa volta in parte, non in toto come invece è stato previsto per la convenzione per i nuovi insediamenti agricoli, si fa comunque parte di una percentuale importante di tasso di interesse. Quindi l'azienda agricola avrà a suo carico un onere minimo di tasso di interesse ma avrà un beneficio finanziario, avrà un supporto finanziario per finanziare la sua attività fino a 12 mesi. Queste tipologie di convenzioni vengono denominate revolving, nel senso che al termine dei 12 mesi, quando l'azienda agricola salderà i suoi impegni assunti con l'acquisto dei mezzi tecnici dal consorzio agrario, in quel momento la linea ritorna a zero ma sarà immediatamente nuovamente riutilizzabile per i 12 mesi a venire. Quindi è una linea che può andare avanti nei limiti delle esigenze e delle opportunità che riterrà l'agricoltore.